Buongiorno a tutti da Piergiovanni Salimberi e benvenuti nel mio canale dedicato al mondo degli strumenti ottici. Oggi ragazzi vi parlo del rifrattore Askar 185, un telescopio dotato di un tripletto spaziato in aria offerto da Artesky al prezzo promozionale di 5.499 euro rispetto ai 6.099 euro di listino. In questa video recensione esploreremo insieme le sue caratteristiche tecniche, i pregi e i difetti nell'uso visuale ad alta risoluzione e per il cielo profondo. In un video successivo valieremo le sue capacità fotografiche in collaborazione con Antonio Giudici del GAV, il gruppo astrofotografico Varese. Come sempre questa sarà una sintesi del lungo articolo scritto su binomania.it che vi invito a leggere. Io direi di partire subito dopo, la breve sigla e se volete nel frattempo iscrivetevi per restare sempre aggiornati, ci vediamo tra pochissimo! L'Ascar 185 colpisce per il suo aspetto robusto e professionale. Verniciato in bianco, satinato, con dettagli arancioni anodizzati, presenta un tubo ottico accuratamente annerito e diaframmi interni per ridurre la luce diffusa. Il tappo copre obiettivo è in metallo ed è rivestito in velluto per evitare graffi e migliorare la presa. Il design compatto con un paraluce retrattile e un focheggiatore estensibile permette una lunghezza minima di 110 cm e massima di 142. Il peso con gli anelli e la culla si attesta invece sui 17 kg, ma può raggiungere i 18-19 kg con ulteriori accessori. Per le osservazioni visuali ho utilizzato una montatura NQ6, come vedete, abbinata a un treppiede Berleback Planet e con accessoristica Geoptic, quindi barra maggiorata, doppio morsetto e pesi. La configurazione che state vedendo è risultata sufficiente per l'uso visuale, ma per i più esigenti e soprattutto per la fotografia consiglio una montatura più stabile, come ad esempio una EQ8 oppure una Lossman DG11. Il focheggiatore con demoltiplica 1-10 comunque si distingui per la fluidità e le regolazioni precise, riducendo al minimo le vibrazioni. Nonostante il peso, il telescopio è gestibile anche da soli, ma potrebbe risultare impegnativo per chi utilizza colonne più alte o ha problemi alla schiena. Un punto di forza dell'Ascar 185 è la capacità di raggiungere il fuoco anche con visori binoculari, grazie a un sistema di prolunga integrato gestito da un serraggio timone. Questo, combinato con un focheggiatore estraibile di ulteriori 95 mm, offre grande versatilità, sia per l'osservazione visuale, sia per l'astrofotografia. L'Ascar 185 si distingue anche per un focheggiatore dual speed cremagliera pignone da 3,5 pollici, ruotabile a 360 gradi e dotato di tacche serigrafate per una regolazione estremamente precisa. Questo sistema, compatibile con accessori come ad esempio il Focus Cube V2 di Pegasus Astro, garantisce una messa a fuoco fluida e precisa anche ad alti ingrandimenti. Addirittura con la NQ6 l'assestamento delle vibrazioni come con un classico 150 F8 acromatico che è un focheggiatore peggiore. Durante i test il telescopio ha dimostrato eccellenti prestazioni meccaniche in proporzione al suo prezzo, grazie anche alla lavorazione del focheggiatore CNC di alta precisione e all'annerimento interno del focheggiatore per ridurre i riflessi. Con un diagonale da 2 pollici e un oculare Zunkowa TE11VZ, il telescopio ha messo fuoco anche a 20 metri circa, con una minima estrazione del barilotto dell'oculare. Utilizzando invece un Prisma Bader Zeiss da 31,8 mm, un visore binoculare Max Bright con glass pad da 1,7 mm, è stato possibile raggiungere il fuoco senza correttori. L'Ascar 185 configurato con visore binoculare si può trasformare inoltre in un potente binocolo da postazione fissa ovviamente, con una luminosità superiore a quella di binocoli da 120 mm di diametro. Come anticipato nella premessa questo telescopio è dotato di un obiettivo da 185 mm di diametro, con schema tripletto spaziato in aria. La lunghezza focale è di 1.295 mm per un rapporto focale di f7. Non sono fornite informazioni ufficiali sulla composizione del vetro, presumibilmente dato il prezzo di acquisto non credo si tratti di un FPL 53. Ritengo plausibile ad esempio che il vetro impiegato sia un HFK61. Per l'uso visuale il telescopio offre immagini nitide e ben contrastate come state vedendo e con una tonalità di bianchi lievemente calda. Durante il test, come gigantesco spotting scope per osservazioni naturalistiche del paesaggio, ha mostrato un eccellente contenimento dell'aberrazione cromatica, confermando le sue qualità apocromatiche visuali. Ho verificato un cromatismo residuo decisamente ben contenuto, usando un buon diagonale a specchio da due pollici di elettrico, ad esempio l'aberrazione cromatica sparisce. Infatti questa è una ricetta che di solito si consiglia sempre a chi usa rifrattori aperti sotto gli f7. Lo star test, come state vedendo, ha mostrato immagini intrafocali nitide e uniformi, mentre quelle in extrafocale hanno rivelato una lieve aberrazione sferica e un po' sottocorretto. Come potete vedere, considerando sempre che questo star test è ottenuto con il metodo del digiscoping, quindi oculare cova, multilente e rattatore per smartphone, io direi comunque di trarre le vostre considerazioni, è un tripletto f7. Il trattamento antiriflesso multistrato di un piacevole colore verde e violetto fornisce un'ottima trasmissione luminosa, garantendo immagini sempre nitide e contrastate, migliore di quelle di strumenti con semplici trattamenti su qualche superficie. Direi che adesso è giunto il momento di presentarvi le mie impressioni pratiche sul campo, potremmo iniziare con l'osservazione lunare. La prima osservazione lunare con l'Ascar ha dimostrato un'estrema luminosità, paragonabile a telescopi di diametro maggiore, come ad esempio un Celestron C11, ma con immagini più nitide e tranquille, grazie al sistema lenti. Nonostante un tempo di ambientazione termica superiore rispetto a un doppietto da 130 mm, questo tripletto ha mostrato stabilità e una capacità superiore di adattarsi ai cambi di temperatura rispetto a strumenti come ad esempio i Maxutov-Newton e i Kasgren. Durante una serata con singhe mediocre, infatti, sono stati visibili dettagli affascinanti, come ad esempio la rima nel cratere Alfonsus, dove vedevo proprio entrambi i lati della valle, diciamo così, e il cratere dei domi di Hortensius, dimostrando le potenzialità di questo telescopio. Purtroppo nell'osservazione lunare non ho beneficiato di un singe ottimale, quindi spero che Artesky mi concederà ancora qualche settimana per terminare le mie impressioni nell'utilizzo, insomma, come telescopio lunare. Ora però vi vorrei parlare del miglior Giove della mia vita, è peccato che non sia in grado di dimostrarvelo per come l'ho visto. Il 21 gennaio 2025, tra le 17 e le 19, ho effettuato un'osservazione di Giove in condizioni di singhe eccezionali per la mia valle. Le condizioni meteo migliorate rispetto alle previsioni mi hanno infatti concesso di sfruttare al massimo le potenzialità di questo strumento e la sua apertura. Dalle 17.30 ho iniziato a osservare Giove, testando vari oculari e accessori per ottimizzare comunque la configurazione. Con il treppiede Berleback Planet ho verificato vibrazioni tollerabili anche 250 ingrandimenti, seppur si assestassero dopo circa 5 secondi. In ogni caso i motori della montatura si sono comportati perfettamente. Ho utilizzato sia un diagonale prismatico Bader Zeiss, sia un diagonale di elettrico a specchio della William Optics, riscontrando una migliore resa, come già vi ho anticipato, con quest'ultimo, in quanto si riduceva di poco comunque il cromatismo residuo. Per migliorare il contrasto delle zone equatoriali in monovisione ho dovuto applicare un filtro ND per abbassare un po' la luminosità fornita dal 185 che comunque non è ostruito e questo trucchetto vi devo dire che ha mostrato veramente un putiferio di dettagli nella zona equatoriale. Per il resto si potevano ammirare innumerevoli dettagli come la macchia rossa, dettagli all'interno della macchia rossa, ovali bianchi, festoni colorati e texture nelle zone tropicali e polari. L'esperienza di osservazione con il visore binoculare poi del Bader Planetarium e un glass pad da 1,7x è stata tra le migliori che io abbia mai avuto, grazie a una ricchezza di dettagli e colori intensi che offrivano una straordinaria tridimensionalità. Vi ripeto, è stato veramente il miglior giove della mia carriera di astrofilo, appassionato di osservazioni planetarie, seppur dallo star test si sia notato un po' di aberrazione sferica. Il diametro generoso infatti dell'Ascar 185 ha permesso di percepire dettagli con maggiore intensità rispetto a telescopi più piccoli, magari però otticamente più performanti, riducendo anche l'effetto delle miodesopsie. L'Ascar poi ha anche mostrato una stabilità termica superiore e un'ottima resa delle immagini rispetto ad esempio a telescopi che ho posseduto, come il Maxutov Newton Intes Micro da 178. L'Ascar infatti si è distinto per la qualità delle immagini e il mantenimento delle prestazioni durante la serata, anche quando le temperature comunque sono calate rapidamente. Nonostante la mia limitata esperienza con telescopi di grande diametro, posso affermare che l'Ascar 185 offre delle prestazioni eccellenti, soprattutto se abbinato a una montatura adeguata e accessori di qualità. La sua capacità di compensare parzialmente l'aberrazione sferica visibile in extra focale con un buon potere risolutivo e un'ottima pupilla di uscita, che è luminosa perché a 185x abbiamo un millimetro contro l'esempio di 0,7 del Takashi FS128 e all'uso del visore binoculare lo rendono un'opzione secondo me da considerare seriamente per l'osservazione planetaria, anche perché un ipotetico rifrattore più performante a lunga focale da 20 cm aperto F15 ultra lucidato sarebbe decisamente molto più difficile da gestire. Anche Saturno comunque ha sorpreso per il contrasto ovviamente superiore rispetto a Giove. A 350x gli anelli erano ben definiti e anche i dettagli visibili, mantenendo delle immagini nitide grazie comunque anche in questo caso alla stabilità termica del telescopio. Era molto più colorato rispetto a quei colori pallidi che vedo all'interno dell'FS 128. Marte invece ha mostrato particolari che non avevo mai visto né con il 128 né con il Celestron C11, confermando l'elevata qualità dell'Ascar 185 quando insomma tutto funziona regime anche nell'osservazione planetaria. Il cielo profondo poi, ragazzi, è stato entusiasmante. L'osservazione sia del doppio ammasso di Perseo e della nebulosa di Orione hanno dimostrato dei dettagli mai visti prima dal sottoscritto, come la percezione personale di vedere una tenue colorazione grigio-verdogno nella nebulosa di Orione. Le stelle appaiono puntiformi con un contrasto e una definizione che rendono ogni osservazione un'esperienza unica. La capacità del telescopio di gestire il SING e fornire immagini dettagliate lo rende secondo me molto ideale per l'osservazione delle galassie, degli ammassi stellari e anche delle nebulose. Il visore binoculare poi è uno dei punti di forza se utilizzato con l'Ascar 185. Senza necessità di correttori aggiuntivi, offre una modalità di navigazione nel cielo a bassi ingrandimenti veramente incredibile, da binocolo di altissima qualità. Per luna e pianeti ovviamente vi consiglio di utilizzare un correttore Bader per eliminare il cromatismo residuo provocato dagli ulteriori elementi del visore binoculare. Con l'1,7x non dovrete usare un tubo di prolunga, che però vi servirà con il 2,6. Direi che è giunto adesso il momento di sintetizzare i pregi. Tra i pregi senz'altro il prezzo di acquisto, perché è incredibile. Ottime rifiniture sia interne che esterne, meccanica di ottima qualità nella sua fascia di prezzo, visore binoculare ultra consigliato, possibilità di montarlo magari provvisognamente su un NQ6 per le mere osservazioni visuali, eccellente nell'osservazione del cielo profondo e ottimo anche per l'osservazione planetaria, consiglio ottimale e gli accessori giusti. Tra i difetti ragazzi che dirvi, un rifrattore da 185 mm a meno di 6.000 euro con obiettivo ID e una buona meccanica e con le prestazioni che spero abbiate sentito e leggerete nel mio reportage su Binomania non può presentare difetti. Certamente è un progetto che è stato principalmente creato per la fotografia e questo significa che, sebbene sia eccellente per ottenere un miglioramento del rapporto segnale-rumore, non è necessariamente lo strumento migliore al mondo per l'osservazione lunare planetaria. Il problema però è che strumenti a rifrazione magari più performanti costano anche sei volte in più e schemi misti potrebbero avere maggiori problematiche in presenza di turbolenza atmosferica ed i cali repentini di temperatura. Sarebbe veramente molto interessante, infatti più avanti, organizzare una comparativa con rifrattori top di gamma contro l'Ascar 185. In conclusione, l'Ascar 185 rappresenta un telescopio eccellente per chi desidera uno strumento poliedrico e accessibile, ideale inoltre per l'osservazione del cielo profondo e nelle giuste condizioni, come spero avete compreso, sorprende anche nell'osservazione planetaria e lunare. Sebbene sia progettato per l'astrofotografia, offre prestazioni di rilievo anche nell'osservazione visuale, soprattutto quando abbinato a un buon visore binoculare e ottimi accessori. Nonostante non raggiunga la nitidezza e il contrasto di rifrattori premium con una lunghezza focale maggiore, oppure un diametro inferiore ma molto più costosi, il suo generoso diametro da 185 mm unito a una costrazione comunque solida lo rende un'ottima scelta per chi cerca un compromesso tra le prestazioni e il prezzo. Secondo me è uno strumento che con un po' di esperienza e gli accessori adeguati può veramente soddisfare anche gli osservatori planetari più esigenti, rimanendo oltretutto molto facile, come avete visto, da gestire da una sola persona. Io vi ripeto il prezzo, attualmente l'Ascar 185 è disponibile presso Artesky, vi invito a visitare quindi il sito shop online e il negozio a Giussano, a 5.499 euro rispetto al prezzo di listino che è di 6.099 euro. Io ringrazio Luca e Stefano Seveso per avermi consentito di utilizzare questo telescopio. Ci sarà adesso modo magari di fare un'altra osservazione lunare e di procedere con il test di astrofotografia. Ringrazio ovviamente Artesky anche per avermi fornito il telescopio e lasciandomi libero di citare le mie impressioni. Se ancora non l'avete fatto ragazzi vi consiglio di iscrivervi al mio canale perché in primis è gratuito e inoltre attivando anche la campanella potrete rimanere sempre aggiornati su tutti gli aggiornamenti che pubblicherò di settimana in settimana. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e dall'Ascar 185. Ci vediamo la prossima puntata. Ciao ragazzi! Ciao! 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 Ciao!